siamo qua signori siamo qua io e il buon Davon che in questo momento vedo bloccato ma adesso si sbloccherà perché perché Davon siamo qua ti lascio la parola a te perché forse per 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 la primissima volta da quando facciamo youtube siamo un po' in disaccordo dai possiamo dirlo siamo un po' in disaccordo nella lettura insomma non dico forse della partita un po' della situazione allegri mi viene da dire in generale visto un po' quello che è stato anche quelle che sono state le nostre riflessioni e considerazioni nel post partita direi che possiamo definirci in disaccordo c'è stato un tuo un tuo iscritto che nei commenti ti ha chiesto proprio questo confronto no anche credo che sia credo che sia anche un tuo iscritto perché aveva appena visto il tuo video si chiama core m sto leggendo il link adesso quindi ha chiesto questo confronto che secondo me è costruttivo è una cosa che che mi gasa terribilmente e allora sì sulla partita credo che bene o male siamo tutti e due sulla stessa linea linea d'onda cioè nel senso partitaccia partita che è gravemente insufficiente oggi leggevo una statistica che diceva che non accadeva forse dal campionato 2003 2004 che l'evento schiedesse un secondo tempo senza nemmeno un tiro non importa in generale già questo penso un reso conto abbastanza dettagliato di quello che è stato l'andasso io concordo con te io ho visto i tuoi due video che hai fatto sono d'accordo con te quando dici che firenze è probabilmente se non la più difficile uno dei più difficili nella sua ultima italia tu credo che di averti sentito dire proprio la più difficile se non è insieme a san paolo è quella che soffro di più confermo sì è una cosa molto soggettiva in realtà no ma guarda in realtà ne ragionavo anche sugli ultimi confronti che abbiamo fatto eh con con sare abbiamo fatto uno zero zero che anche quello era stato veramente brutto che era la terza giornata del campionato d'agosto c'è un caldo ramatti si va male d'aglas costa e cambia il quattro tre tre compirlo è stata la partita che mi ha portato veramente a dire io non ritengo più adatto pirlo che si eravamo presentate con quel tre cinque due improvvisato un uno uno un po' ram sei un po' così con allegra l'anno scorso era l'ultima giornata di campionato era già andato tutto avevamo perso due a zero ma eh ribadisco una partita che tenderei anche a non considerare e in Coppa Italia abbiamo vinto una zero con l'autogol divenuti ma le ultime quattro prima di questa a Firenze sono state veramente toste quindi sì Firenze credo che sia uno dei campi più difficili da andare ad affrontare se sei la Juventus e quindi penso che la prestazione la possa lasciare da parte perché tutti e due siamo di questa lunghezza d'onda invece su Allegri ho apprezzato invece la prima parte del tuo video che hai fatto il quando vai a dire che che tu ti fidi di Allegri perché che ti ha fatto vincere io concordo perché questa è esattamente la la cosa che l'anno scorso io mi ricordo quando era stato era circolato il nome del ritorno di Allegri avevo detto per me in questo momento non è l'allenatore giusto per il progetto che vuol fare la Juventus però io uno come Allegri lo prendo sicuramente proprio per quello che è il suo passato perché so che vado sul sicuro ammetto che oggi questa idea mi sta iniziando a screcchiolare e io da qui inizierò il ragionamento perché secondo me la premessa su Massimiliano Allegri e tutto quello che dici nel video del c'è gente che lo considera l'ultimo arrivato non sono assolutamente io e quindi la domanda più grande che ti faccio è quanta fiducia hai ancora in Massimiliano Allegri io io totale ok io totale lui io totale insomma io guarda ti do grandissimo merito per per quella frase che avevi detto io mi ricordo che era stato il primissimo video veramente che avevi fatto quando è uscita la notizia di Allegri dove tu avevi espresso queste parole qua che hai appena detto anche tu no cioè quindi mi piace Allegri perché come fai non piacerti Allegri nel senso veniamo da 12 trofei con Allegri però dicevi anche non sono sicuro che sia la persona giusta perché per questa squadra perché è una squadra con dei giocatori da costruire da fare crescere per cui ci vuole pazienza e ci sono dei giocatori che sono oggi a 7 che bisogna portare a 10 quindi un allenatore come Conte visto che c'è ne parlavo anche nel mio video c'è questo binomio era il mio nome all'epoca era il mio nome io ti dico allora non mi ero preoccupato di questa cosa qua ero talmente tanto galvanizzato dal ritorno di Allegri che non mi ero preoccupato oggi invece tenendo merito perché è una cosa a cui ho ammesso anche nel mio video che effettivamente questa non è la Juventus di una Juventus adatta per per Massimilio Allegri perché ogni allenatore credo che abbia le sue caratteristiche tornando alla risposta della tua domanda ti te lo confermo io dico totale ma perché senza voler essere supponente senza voler essere presunto in nessun in nessun modo possibile ma io ritengo un po' da tifoso di avere leggermente imparato la lezione degli ultimi tre anni cioè questo allenatore è stato esonerato esonerato quando lui aveva dichiarato comunque di aver visto un fine ciclo alla Juventus quindi proponendo un certo tipo di rivoluzione alla società che non è stata accolta non è stata accolta questa proposta Allegri è stato esonerato da lì è cominciato il declino della Juventus e Allegri è stato l'allenatore che ha rifiutato il Real Madrid anche come gesto d'amore nei confronti della Maya Bianconera ha messo tra l'altro da lui stesso la prima conferenza stampa di presentazione e oggi continua a pagare di questa cosa come fosse veramente la causa di tutti i mali poi voglio dire la premessa di questo video è stata la prestazione di Firenze non è una bella prestazione è quasi inaccettabile sotto certi punti possiamo dire che è inaccettabile però io dico anche che ho visto una squadra che comunque a livello difensivo poi è brutto cioè perché me ne rendo conto non mi piace essere dominato e schiacciato dalla Fiorentina per 70 minuti su 90 se non se non 80 però comunque una partita che probabilmente cioè come ho detto nel mio video io mi ricordo dove arriviamo mi ricordo che eravamo una non squadra con Pirlo che passavamo dal 0-3 al Camp Nou allo 0-3 in casa contro la Fiorentina di Prandelli che era portata da Fiorentina rispetto a questa allora dico il fatto che in una partita così in una trasferta così difficile dove tu fai veramente tanta tanta fatica porti comunque a caso un punto non dico che bisogna essere felici però dico non guardiamo sempre il bicchiere mezzo vuoto anche perché ho tantissime considerazioni da fare poi dopo ti rilascio la parola che ho già parlato troppo rispetto anche a quello che rispetto anche a quello che hai portato sul tuo video sull'analisi della della partita perché poi perché poi ripeto e chiudo ieri Allegra ha fatto turnover ieri Allegra ha fatto turnover dopo secondo me ci conviene anche tornare un po' sulle sue dichiarazioni che sono state iperdiscusse nel post io volevo in realtà lasciarle fuori perché mi sarebbe piaciuto parlare più del campo di quello allora 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 magari è un discorso che tiro fuori io dopo perché anche lì avrei un paio di robe da da dire ma comunque è stato fatto turnover perché Vlaovic non ha messo piedi in campo Miretti ha fatto rotazione al sessantesimo quando dovevi vincere la partita hai tolto i tuoi due esterni d'attacco per mettere McKennie e Ken come esterni d'attacco è stata una scelta evidente quindi non cioè siamo sempre troppo esagerati al 3 di settembre a fare questi mega giudizi assoluti no definitivi insomma è una cosa che mi crea un po' di nausea e un po' di di dispiacere ecco tutto qua ok allora apro due parentesi anzi tre una che il mio giudizio non è definitivo cioè non sono qui a dirti che oggi esonererei Massimiliano Allegri proprio per quello che dici te anche perché io torno un attimo indietro sui miei giudizi allenatori precedenti l'Allegri dell'ultimo anno di Allegri secondo me ci stava a cambiare arrivati alla fine del ciclo era opportuno esplorare nuove strade non avrei preso Sarri ma nel mentre che prendi Sarri sai che non lo puoi assicurare dopo un anno poi ci sono state delle discussioni interne che sappiamo tutti e quindi si è cambiato su Pirlo quindi io su Sarri avrei dato continuità perché se non è giusto dare continuità di rendimento a un allenatore su Pirlo mi sono spaventato perché ho proprio avuto paura che non fosse ancora pronto e in grado di ok e perché all'epoca non lo eri ricordo all'epoca eh sì sì esatto ero sempre per la continuità esatto e invece su Allegri arrivato alla fine dell'anno scorso io mi sono detto analizzando quella che è la situazione andrebbe esonerato ma la Juve non può permettersi di ripartire per la quarta volta di fila con un altro allenatore e dando sempre sulla colpa agli allenatori che quello che dicevi te non è che si può dare sempre sulla colpa agli allenatori e quindi l'anno scorso ho detto io faccio un atto di fede un altro anno Massimiliano Allegri glielo si darà molto probabilmente per me è giusto perché è giusto dare continuità al lavoro e qua secondo me si apre un'altra pagina che che hai citato mi parla nel video di ieri non quello di oggi e cioè quando non abbiamo ancora avuto modo di fare questo ragionamento l'ho fatto con Kino e Lello perché eravamo presenti quando dici che secondo te questa di adesso non è una squadra per Massimiliano Allegri invece secondo me per quello che è stato il mercato io ho dato sei e mezzo prima dell'ultima giornata poi con le operazioni clamorose a livello economico dell'ultima ho portato a sette perché secondo me è stato fatto un lavoro incredibile però se la leggo sotto il profilo dell'allenatore per me questo è un mercato da otto cioè Allegri aveva chiesto un vice Vlaovic con quelle caratteristiche aveva chiesto Kostic aveva chiesto due campioni come Pogba e Di Maria ecco l'unica attenuante che posso dare in questo momento è che le cose che mancano alla squadra di Allegri è un Pogba al 100% e un Di Maria al 100% nel complesso sì sì no ma ma infatti cioè io nel video dico proprio questa cosa qua però quando io sento dire la Juventus non ha scuse Allegri non ha scuse perché la Juventus è la Juventus di Pogba di Maria no ragazzi no no chiese fuori da un anno Pogba non ha manco iniziato Di Maria su cinque partite ha fatto una giornata e mezzo una partita e mezzo di cui in mezzo era più stirato che in salute cioè questa qua non è la Juventus di Pogba Chiesa Di Maria Bonucci e compagnia bella ha dovuto schierare Paredes perché siamo già in emergenza a centrocampo che ha fatto un allenamento in mezzo cioè un allenamento più la rifinitura al mattino cioè questa qua non è la Juventus Allegri non sta allenando la squadra definitiva è questo che io intendo cioè cerchiamo di essere anche un po' lucidi ma ragazzi voglio dire una cosa voglio dire una cosa ma voi andate a togliere andate a togliere Leao, Teo Hernandez e Tonai al Milan cazzo ma andate a togliere questi tre giocatori ragazzi ma è cioè ti svoltano la categoria della squadra che non significa non voglio fare quel discorso che non mi è piaciuto po' se Sampdoria che è stato molto presuntuoso e lì Allegri veramente ha sbagliato sulle categorie ma voglio dire questa qua non è una giustificazione è un dato di fatto cioè quando io sento dire che la Juventus è favorita perché la Juventus ha chiesa Di Maria Pogba no non ce li ha non ce li ha Allegri l'anno scorso ha dovuto fare senza chiesa senza Di Bala gli hanno preso Vlaovic e i miglioramenti si sono visti perché se andiamo a vincere quello sconto diretto in casa con l'Inter non so come finisce il campionato allora dico è senza chiesa per un anno Pogba manco ha cominciato perché dopo due allenamenti si è rotto il ginocchio Di Maria su cinque partite ne ha fatta uno e mezzo di cui mezzo era più stirato che in salute ha dovuto giocare una volta con Rugani ha dovuto adattare centrale di difesa Danilo che è un terzino della prima volta che lo fa in trent'anni di carriera tanta roba comunque Danilo tantissima roba allora dico ragazzi insomma cioè non approssimiamo non approssimiamo perché se io guardo la pagina delle figurine di Juventus in tre Milan la Juventus ha un'ottima squadra un'ottima rosa e il mercato della Juventus è stato fatto sulle richieste di Allegri e quando ci saranno tutti non avrà più scuse ma oggi era anche una cosa che ti dicevo sul video che avevo pubblicato lui sul mio canale quando mi ha fatto la produzione insieme io ti dicevo attenzione a vederla Juventus come la Juventus di Pogba e Chiesa non ci sono e non ci sono e ragazzi ma cioè voglio dire non è una giustificazione è un dato di fatto tutto qua infatti volevo arrivare lì queste non sono opinioni cioè queste sono cose che stai riportando che sono vere cioè se guardiamo Di Maria avrà giocato 90 minuti su cinque partite Pogba ne ha giocati zero Chiesa ne ha giocati zero quindi qua c'è poco da obiettare io delle due allora la controproposta che faccio è tanto ieri Di Maria non mi sembrava in condizione di giocare e quindi forse è stato fatto un errore di valutazione anche sul giocatore sul recupero del giocatore perché io per dire non avrei nemmeno messo quello spezia per non rischiare perché quando si parla di legioni ci andrà un po' più cauto ma soprattutto quello che mi ha dato davvero l'impressione negativa ieri è che mi ha dato quello schiaffo in faccia come me lo è adatto il Firenze per Pirlo è proprio un'altra cosa probabilmente nella quale siamo in disaccordo che io non ho mai notato la voglia di vincere la partita io sto notando che sta mancando questa io ti parlo proprio di cattiveria io mi ricordo quando vinceva le partite nel tunnel quando entravamo nel tunnel e ci guardavano i piedi non ci guardavano negli occhi adesso siamo noi probabilmente che guardiamo i piedi e credo che questa cosa derivi dall'allenatore perché non posso pensare che il primo tempo parti con il pressing alto a cercare di aggredire la Fiorentina va in vantaggio fai 15 minuti fatti bene e poi nel secondo tempo al di là del cambio che ci può stare non ci può stare decidi di optare per una difesa posizionale tutti dietro la linea del pallone senza provare mai a ripartire secondo me al di là di Pogba di Maria Chiesa sono proprio questioni di atteggiamento in primis che mi stanno facendo dire ma Massimiliano Allegri oggi è Massimiliano Allegri ieri è una brutta copia dell'allenatore perché io addirittura mi sono ritrovato l'anno scorso a dire per me Allegri non si sta fidando di questa squadra però se dopo un anno sono ancora qui a dirmi sta continuando a non fidarsi di questa squadra e piuttosto che rischiare di prenderli in bucata e prenderne due o tre preferisce portare a casa il semplice pareggio allora significa che non stiamo facendo passi in avanti nel cercare di migliorare le posizioni siamo rimasti bloccati al quarto posto di Pirlo al quarto posto di Allegri e probabilmente quest'anno sarà un altro anno sotto questa falsa riga ecco io ho questa paura qua è questo che mi sta facendo mancare un po la fiducia la terra sotto i piedi nei compagni ma infatti questa è una cosa è una cosa corretta una considerazione corretta la differenza che ho cercato di esprimere nel mio video è che Allegri e la squadra non è che hanno deciso di non vincere la partita si sono resi conto che ieri la la Fiorentina ne aveva di più allora io sono d'accordo con te sul fatto che è un tema di coraggio perché veramente questa squadra deve deve uscire da questo loop di paura per cui la gente sembra che non stoppi il pallone però io voglio dire anche questa roba qua che questi qua sono problemi vecchi tre anni cioè erano vecchi ma certo sono vecchissimi compirlo con Allegri allora è qua che io dico è qua che io dico deve venire fuori quella voglia di stare dentro a questo problema e risolverlo con queste persone non credere che sia la questione dell'allenatore perché anche Allegri se ne rende conto allora io ti garantisco che Allegri ha preparato la partita per per vincerla e secondo me la strategia di ieri era era abbastanza chiara cioè secondo me era quella di schiacciare la Fiorentina andare su un paio di reti in vantaggio nel primo tempo e poi cercare di gestire il turnover come poi ha fatto perché tu quando hai in mente il turnover lo fa indipendentemente dal risultato il problema è che dopo eravamo sull'1 a 1 no di fatto però tu nel primo tempo hai avuto quelle due tre occasioni clamorosa quella di McKennie per andare sul 2 a 0 e nel primo tempo la Juve non ha giocato male nel primo tempo la Juve non ha giocato male poi se in cinque minuti a un metro di distanza vabbè McKennie non ti reimporta non si sa per quale motivo il calcio è crudele l'ha fatto il diavolo l'azione dopo ti fa gol come non puoi prendere un gol così quindi colpa di Allegri squadra e quant'altro poi se nel giro di cinque minuti a un metro di distanza mi mirano la mano la mano di parede se mi fischiano rigore ragazzi ma sono delle botte anche psicologiche che dopo vale a ribaltare al Franchi insomma e cioè e quindi e quindi io dico la voglia di vincere la partita c'è manca il coraggio e allora qua sono d'accordo con te posso tirarti fuori ti interrompo un secondo perché hai detto delle cose che secondo me si incastrano perfettamente con quella che è l'analisi che voglio fare io ho giocato a calcio in categorie bassissime te sicuramente hai giocato più in alto io ho fatto terza e amatori quindi proprio il peggio del peggio però questo ragionamento vale per chiunque sia sceso in campo con una squadra passi in vantaggio dopo dieci minuti che stai facendo bene poi vengono fuori quegli altri perché quegli altri non ci stanno magari nemmeno in casa contro i vari storici a perdere per forza vengono fuori c'erano i momenti in cui devi soffrire questi ti trovano pure il gol del pari e noi abbiamo iniziato a scioglierci un pochino abbiamo iniziato a avere più timore ci è mancato davvero il coraggio ci fischiano il rigore contro riusciamo a salvarci perché il portiere fa la parata non andiamo sotto in una situazione complicata l'aspettativa che ho io è nel secondo tempo scendo in campo per cagargli in testa perché sono riuscito a venire fuori dalla tomba mi sono arrampicato fuori dalla tomba ci sta non c'è stata nessun tipo di risposta questo punto di vista cioè questo secondo me è molto grave sì sono d'accordo con te su questo sono su questo sono d'accordo con te e per quanto sia vero che siano problemi vecchi allora mi viene da dire sono vecchi certo però a sare l'anno per lavorare in più è stato dato a pillo nemmeno ad allegri sì sì ma però non è l'anno in più cioè un anno è un anno e cinque partite assolutamente è un anno e cinque partite con scuola rilevata però io il punto è il punto focale del discorso secondo me non è che io sono l'ultimo che pretende il gioco spettacolare il vincere con i quattro gol di scarto non me ne frega niente io però in questo momento non vedo un atteggiamento che mi fa pensare di essere la juventus io oggi vedo un atteggiamento a ti ma infatti lui c'è perché poi perché poi cosa succede che tante delle persone che magari commentano anche i nostri video si limitano al titolo no quindi non forse la parte che lo dico apertamento persona tipo 100 una cosa come 150 iscritti con il post partita di ieri quindi cioè probabilmente per commesso sono stato l'unico a non mettere un titolo come dire critico ero arrabbiatissimo ero arrabbiatissimo nei confronti di alleghi ma se tu vai a ascoltare fino in fondo il mio video io alla fine sono molto dirato sono molto dirato e incavolato con l'atteggiamento della squadra che è quello di cui mi stai parlando tu adesso io gli dico cioè io voglio vedere a un certo punto della partita che la juventus prende per i capelli l'avversario e prende in mano sta partita prende il controllo della partita però quello secondo me te lo devi dare l'allenatore sì ma no ma sono d'accordo con te ma io ma io ma io ma io sono d'accordo con te però però perché non si parla cioè perché televisioni su e perché lì perché è più facile ma perché è più facile perché non si me non si fa la visto che fanno sempre la zoom camera su sui gesti no perché non si fa vedere che nel primo tempo c'era allegri che con due braccia si dimenava per dire su su salis me stava chiamandolo cate gli diceva andiamo su che c'era parede che l'aveva preparata per mettere parede su ambrabbiat che l'ha fatto bene i primi minuti poi si girava non c'era nessuno allora io dico ma è un diktat dell'allenatore o sono i giocatori che in questo momento sentono un peso doppio sulla maglietta e non riescono a sbloccarsi di questo peso secondo me nel primo tempo sono stati i calciatori però tu lo sai quanto scusa se ti interrompo quanto è cinico e pragmatico allegri lo sai perché a me l'abbiamo imparato a conoscere allora se tu sai che se sei allegri al settantesimo per 50 minuti non hai visto palla allegri non la va a vincere allegri ti mette 5 3 2 e ti porta a casa al punto perché lui capisce che in quel momento lì se tu vai a mettere un esterno piuttosto che un difensore magari perdi 3 a 1 quella partita e la fiorentina ti supera hai perso uno sconto diretto fa ancora più rumore fa ancora più male c'è cosa mi ricorda questa parte c'è questa lettura che mi stai dicendo la prima partita del ritorno di allegri quando stai vincendo 2 0 con l'udinese e lui nel post partita dice ho fatto cambi troppo offensivi c'era da portare la barca in porto però questa lettura a me dà la sensazione davvero di poco coraggio cioè andrebbe benissimo per una squadra il cui obiettivo di partenza è devi raggiungere le prime quattro posizioni allora se devo raggiungere le prime quattro posizioni questo rullino di marcia fino adesso per me è perfetto perché ha fatto due vittorie e tre pareggi però lui no sì ma parzialmente perché non è una semifinale di champions per certo che no certo che non è non è non è non è lo non è lo non è lo spareggio di aprile che se lo perdi o meglio se non lo vinci allora sei fuori dalla corsa scusati ti devi giocare tutto perché sei la quinta giornata sei al 3 di settembre ragazzi sei al 3 di settembre è la quinta giornata su 38 allora quanto può far male perdere a firenze così rovinosamente piuttosto che comunque avere un punto cioè questo il concetto cioè cerchiamo di di metterci dentro un una visione un pochino più complessivo una visione un pochino più globale cioè non è che ogni pareggio o meglio ogni non vittoria è diversa dalle altre secondo me cioè non è che se non vinci allora è sempre tutto nero e quando vinci invece è sempre tutto bianco no cioè diamo una lettura un pochino più complessiva della partita insomma è il 3 di settembre la quinta giornata ci sta che secondo me tu da Firenze c'è con un punto ci sta ma questo dubbiamente il punto secondo me focale del discorso è che l'uno a uno con la Roma in casa l'uno a uno di Firenze che portano lo stesso risultato quindi il pareggio io sono molto pragmatico da analizzare è un punto pesa uguale però non mi sembra nemmeno conquistato dalla stessa squadra cioè mi sembra che abbiano messo in squadra in campo due squadre diverse due squadre che non ha niente a che vedere l'una con l'altra e allora mi dico perché è una squadra che è in grado di fare la partita che ha fatto con la Roma non me la va a riproporre con la Sampdoria che fa due parigi e tre sconfitte perché non me la va a riproporre con le spese questa è una bellissima domanda e credo che sia un po' la domanda a cui stiamo cercando di rispondere tutti però io te ne vorrei fare un'altra perché il Milan fa una partita orrenda orrenda contro Sassuola Reggio Emilia e si parla di passaggio a vuoto l'Inter fa una bruttissima prestazione viene presa a schiaffi dalla Lazio di Sarri perde 3 a 1 all'Olimpico e si parla di un passaggio a vuoto perché la Juventus fa un pareggio a Firenze facendo turnover perché martedì c'è un appuntamento fondamentale per la Champions League e si dice che Allegri è vecchio non è moderno che la squadra non non risponde che c'è poco coraggio che c'è poca personalità c'è un giudizio relativo sulla partita riusciamo a dare una volta o per quanto riguarda Juventus adesso va di moda sempre dover criticare oltre righe ci deve essere sempre questo eccesso allora credo per la risposta alla domanda io intanto cerco sempre di analizzare partita per partita infatti adesso che ho iniziato questa nuova serie sull'analisi delle singole partite mi sta piacendo la porterò avanti però ti do la vorrei arrivarci lì sì ti do la mia lettura perché io in questo momento ho una sensazione cioè la stagione dell'anno scorso la stagione di quest'anno fino adesso mi sembra la stessa stagione a me sembra di vivere la stessa identica stagione da dove c'eravamo lasciati prima di conquistare la Champions perché il dopo non c'è stato niente però da quella partita lì a queste che abbiamo giocato fino adesso a me sembra di vivere la stessa stagione e quindi probabilmente è il mettere tutto nel calderone e dire se quella precedente è terminata in un certo modo e quella nuova doveva iniziare in una maniera diversa non si sta vedendo il passettino in avanti che mi aspettavo ma me l'aspettavo perché perché allegri cioè se avesse avuto in panchina il più scarso allenatore della serie a non me lo sarei aspettato direi semplicemente o questo non sa fare o questo non sa vincere io su questo sono sono abbastanza in disaccordo invece perché io invece mi ricordo al di là dei punti al di là dei punti io mi ricordo le prime le prime partite dello scorso anno io ti sto dicendo dalle ultime attenzione dalle ultime non sto paragonando i due inizi di campionato io ti dico dall'ultima partita prima di prendere la champions a queste mi sembra le stesse non le prime le ultime ok allora sono d'accordo è quello il punto sono d'accordissimo che ci sia stato un miglioramento avevo capito che parlate dell'inizio di campionato no sì allora sono d'accordo con te ma siccome questo è un'altra cosa un attimo non dico da sdoganare però c'è anche il fatto che magari per tanta gente il fatto che passi un mese di estate e allora perché se la juventus devi vincere non funziona così la juventus ha un gap di 10 punti rispetto al milan guardiamo il finale della passata sogna allora questa roba qua tu la vai a colmare con il lavoro con il tempo con la pazienza quando metti in forma tutti quando c'è tutti gli effettivi squadra perché vi ripeto andate a togliere al milan leao teo hernandez e tonali andate a toglierli questi tre giocatori e poi vediamo di che squadra parliamo e ripeto non vuole essere una giustificazione a tutti i costi ma è un dato di fatto no 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 ma questo allora allora io allora dico sì sì io sono d'accordo con te ma l'ultima partita è l'ultima partita dello scorso anno in linea con le prime di questa ma perché di fatto la squadra è più o meno ancora quello lì con un paio di innesti che sono allegri costici non è felice di averlo fatto giocare tre partite su quattro buttato così dentro allegri non è felice di aver messo dentro paredes dopo un allenamento fatto ma ce n'è bisogno ce n'è bisogno in questo momento bisogna che tutti stringano i denti e lui ha l'intelligenza che non tutti capiscono di dire in queste condizioni qua in una situazione di questo tipo un pareggio anche con una brutta prestazione a firenze io me lo porto a casa me lo tengo in tasca perché secondo me qualche volta è anche giusto dare merito agli altri e ragionare in questo modo qua facciamo il passaggio sull'analisi della partita sulle prove di allegri così concludere volentieri no perché cioè io ho visto l'analisi della partita che hai fatto con con tutte le statistiche che tu come ben sai io sono amante dei numeri delle statistiche quindi sono numeri che vado sempre a leggermi anch'io però secondo me anche nella lettura che tu hai dato e che non sei l'unico da averla data io quando cerco di dire che in questo periodo veramente quando di vedere tutto nero vedi tutto nero e vuoi vedere tutto nero e quando invece le cose vanno bene ogni dato sembra positivo è quella juventù sta vivendo questo problema per questo momento qua e ti dico questa roba perché in base ai dati che tu hai detto che hai letto sulle statistiche della giornata ma che cosa è questo aspetta che sento delle cose in sottofondo perdonami era partito la pubblicità di sky con del piero e capello si è sentito pazzo per pensavo sul tuo telefono non capivo no 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 qua tutto in silenzio scusa mai avanti e dove riparto è che parlavi dei numeri delle statistiche quando vedi tutto bene tutto nero e quindi nella lettura che tu hai fatto della partita con i numeri che hai messo a schermo che erano correttissimi io però ti dico e ti chiedo tu sei andato a vedere i numeri del milan sì l'ho confrontato con i numeri del derby perché voglio dire adesso fa scalpore il fatto che i difensori della juve spesso siano quelli che toccano più palloni tu vai a vedere i numeri del derby i tre giocatori che hanno toccato più palloni sono ternandez tomori e kalulu ragazzi il concetto è che quelle squadre di oggi che cercano di uscire dal basso è anche normale ci sta questo ci sta benissimo allora anche quando si va a dire no si va a vedere il fatto che magari di maria abbia toccato 14 palloni che vlaovic non abbia toccato tanti palloni io dico cazzo ragazzi ma questi qua sono anche degli attaccanti tu lu sai quanto in me qual è la media di minuti a partita per cui un giocatore ha il pallone tra i piedi qual è la media penso che dipenda molto dalla squadra però c'è una statistica una statistica è proprio generale la media è che un giocatore ogni partita la palla fra i piedi per due minuti e mezzo quasi tre tre sei tanto sono pochissimi ragazzi quindi questo ti fa capire quanto questo ti fa capire quanto anche un giocatore di qualità debba essere incisivo in quei pochi minuti che ha a disposizione allora quello che voglio dire io è questo gli stessi che oggi lamentano i pochi tocchi di vlaovic a partita sono quelli che due anni fa si lamentavano del fatto che iguain faceva il regista avanzate magari ne toccava 50 di prima partita e dicevano ma perché non sta vicino all'aria non voglio che tocchi 50 palloni io voglio che guainte dentro l'aria che ne tocchi cinque che faccia tre gol fate guarda quattro e scusa parentesi vai 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 scusa no scusa se vuoi finire finisce pure no dico è è è un po in linea anche con quel tweet che ho fatto qualche giorno fa è in merito al all'articolo della gazzetta dello sport l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto mi vanno a condannare vlaovic contro la sampdoria perché mi va a toccare tre palloni e a distanza di cinque giorni mi mettono vlaovic è indomabile incontenibile e secondo solo ad alland per rapporto gol tocchi ma allora volevo arrivare i numeri allora sti numeri li usate quando minchia vi parla voi scusate francesismo io ho fatto un corso di match analysis questo inverno e la prima cosa che mi dicono nel corso è stata usa i dati per vedere per dimostrare quello che hai visto nella partita cioè per farti un'idea della partita ma la partita rimane sacra non usarli viceversa per dimostrare quello che vuoi fare te ieri sera invece andrò con la mia ragazza che sta terminando la laurea magistrale in psicologia mi ha detto noi partiamo dal presupposto che l'oggettività non esiste qualcosa di irraggiungibile soltanto i numeri lo sono poi una persona che va ad analizzare i numeri per forza di cose a seconda del mood a seconda della partita che ha visto si fa trascinare ma se dovessimo semplicemente basarci sul numero di palloni toccati dagli attaccanti Holland tocca tre palloni una partita fa tre gol cioè che all'interno del calcio di Guardiola di solito tu ti tocca la palla cento volte Guardiola quest'anno con l'attaccante gliela sta facendo toccare cinque sei sette volte a partita ma quelle volte ha fatto nove gol in cinque partite quindi non è sempre il numero dei tocchi io infatti metto anche gli altri schemi perché dico dove lo tocchiamo il pallone in che posizione quante volte poi arriviamo a toccarlo nell'avversario a quanti passaggi infatti 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 non vuole essere una critica come dire all'analisi della partita che hai fatto tu ma è una confezione a chi ci ascolta per dire ok Di Maria ha toccato quattore cipolloni in un tempo però ha fatto partire l'azione del gol perché si è smarcato tra le linee l'ha scaricata su Locatelli e ha messo in porta McKennie che se non ci fosse McKennie probabilmente andiamo sul 2-0 cioè è abbastanza sufficiente ragazzi eh cioè ma per quella statistica che vi dicevo prima cioè il fatto che un giocatore in due minuti e mezzo ti crei due gol faccia nascere due gol cioè è sufficiente perché dopo allora torniamo alla discussione sul fatto che un giocatore con la qualità di Dybala deve stare vicino all'area e ci lamentiamo perché Allegro lo faceva abbassare per far da collante allora Dybala fa 80 tocchi ma 50 di questi sono sulla linea di metà campo non in area e allora dico ragazzi decidiamoci però perché Vlaovic può staccarsi dalla linea venire a metà campo e farsi dare il pallone appoggiarlo allora alla fine diciamo dai perché siamo felici perché abbiamo i 50 tocchi di Vlaovic stasera la Juve sta ingranando e si dico però se 50 tocchi me li ha fatti all'indietro verso Scesni allora dico sai che cazzo me ne frega a me che Vlaovic faccia 50 tocchi se quello ti importa io sono sempre da parte dell'efficacia eh cioè a me importa il pallone che tocca Vlaovic contro la Roma e fa gol su punizione finito benissimo perfetto cioè se ne tocca uno e fa gol va benissimo l'ha detto anche Allegri il secondo me il discorso è che questa squadra potrebbe davvero fare ancora di più di quello che ha dimostrato fino adesso nonostante le assenze e siamo frenati noi al psicologico secondo me ma ragazzi ma sul fatto che la prestazione di Genova e la prestazione di Firenze siano delle cose brutte da diciamo da cancellare sotto tanti punti di vista io dico sì ma non sono mica cieco ragazzi ma non sono mica felice non sto esultando no però io cerco innanzitutto di fare un'analisi relativa sulla partita di fermarmi lì di guardare un attimo il percorso di mettere insieme un po' tutto il resto no perché poi quando si vuole fare polemica si fa sempre polemica perché giusto per arrivare alle parole anche di Allegri e cioè che perché ha fatto così tanto scalpore cioè io ti chiedo che cosa ha detto di sbagliato che noi tifosi da Juventus non abbiamo o pensato o detto allora io ho due letture è stata una non verità perché poi ti dico perché poi ti dico allora il fatto che noi ci giochiamo la qualificazione col Benfica lo sappiamo tutti quindi questa è una cosa vera questo è un dato di fatto secondo me il fatto che lui il fatto che lui stia aspettando Parigi perché Allegri vive di queste notti e l'ho già dimostrato ampiamente tante tante volte perché anche io lo credo cioè Maluma c'è bisogno che te lo venga a dire ai microfoni ha tenuto giù Vlaovic 90 minuti ha fatto fare la rotazione di Miretti ti ha tenuto giù al sessantesimo quadrado e quadrado e costi ci ha tolto a quarantacinquesimo di Maria ti ha messo Bonucci gli ultimi cinque minuti perché altrimenti giocavamo in dieci cioè non è sufficiente per dimostrarti che lui sta pensando dal giorno dei sorteggi a questa trasferta. Io sono sul carro del Allegri un bugiardo in conferenza stampa non dice mai la verità però io mi sono io mi sono sentito toccato per due cose principalmente la prima è che sono d'accordo quello che dice la verità ma se me lo dice l'allenatore della Juventus secondo me passa un brutto messaggio soprattutto dopo una partita di questo tipo cioè semplicemente io dico quando le cose non vanno bene certe cose si possono dire e in seconda battuta perché domani a Parigi ci vado cioè io ho pagato di tasca mia e la mia paura la mia paura aspetta la mia paura è replicare la prestazione dei gironi all'estero del anno scorso nella gara determinante quella big perché la prestazione del anno scorso in casa col Chelsea con i quattro mediani in linea che prendeva un quattro gol e non c'è completamente la fase offensiva era capricciante e non vorrei mai che quella ma quella la sì 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 ma quella la mia è stata una cosa anche un po' diversa come come il tuo rasbet della partita però io ti faccio questa domanda qua io ti faccio questa domanda qua tu preferisci un allenatore che in conferenza che in conferenza stampa nel post partita i microfoni ti viene a dire martedì è un big match fondamentale per il passaggio del turno per il passaggio del turno e bla 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 mimuma tutto e quant'altro poi magari vai ti presenti martedì ti metti i cinque mediani oppure ti mette miliche perché faccio un esempio in zaghi in zaghi per esempio con l'inter si presenta contro il barcellona oppure racconta non mi ricordo invece che far giocare barella e compagnia bella comincia a mettere vidal comincia a mettere gagliardini e comincia a mettere Correa invece che Lautaro e allora la gente dice oh questo qua sta pensando solo al campionato la Champions ha già rinunciato allora dico tu preferisci uno che con le parole ti dice una cosa e poi che con i fatti ti dimostra l'altro o viceversa perché io preferisco uno che in modo molto schietto mi viene a dire noi siamo realisti abbiamo non io con la squadra dimezzata ma abbiamo Chiesa e Pogba che sono fuori abbiamo Di Maria che abbiamo già visto quanto può fare la differenza che è a mezzo servizio abbiamo un Bonucci che lo stiamo recuperando che è da un mese di inattività abbiamo un Paredes che ha fatto avrà fatto cinque allenamenti anzi tre allenamenti e allora lui dice io sono realista il passaggio ce lo giochiamo col Benfica poi però sono tranquillo perché Vlaovic me l'ha risparmiato Miretti ha fatto rotazione al 60 mi toglie Quadrade Kostic Bonucci fa cinque minuti e allora dico ok i fatti mi dicono che lui la testa ce l'ha già là ce l'ha già là ma i fatti me lo dicono assolutamente e il punto è che io avrei semplicemente preferito una lettura dopo una partita del genere del tipo sappiamo che sulla carta siamo gli sfavoriti ma andremo a Parigi per giocarci un'altra carta c'è una risposta di questo tipo banale io non ho bisogno che me lo dica anche perché cioè Allegri è quell'allenatore che quando non si vince difende la squadra o comunque cerca di vedere il bicchiere mezzo bene e quando si vince con lo Spezzi invece gli dice non va bene che abbiamo questa relazione qua si sa che è fatto così allora io non ho bisogno che Allegri gli venga a dire dai ce l'andiamo a giocare con le nostre forze cazzo siamo la Juventus è un allenatore che per il risultato darebbe via un parente probabilmente secondo te secondo voi non si presenta a Parigi per giocarsi la vittoria ma è chiaro che così ragazzi io non pretendo neanche la vittoria perché io sono davvero convinto che sia una gara della morte c'è un pareggio a Parigi sarebbe oro che cola e infatti voglio arrivare proprio qua per concludere il video quello che importa a me martedì sera quando sarò lì sarà l'atteggiamento che metterà la Juventus in campo quello che passerà l'allenatore perché davvero all'interno di questa squadra magari tolto Di Maria e pochi altri c'è Bremer ha mai giocato in Champions League in Champions si gioca con noi per la prima volta Costa ci ha giocato in Europa lì quindi vuol dire che questi giocatori dovranno assimilare probabilmente da Allegri perché Bonucci non si sa se c'è Di Maria chissà Pogba non c'è quindi sarà Allegri che dovrà dargli l'input a questi calciatori dovrà dargli l'idea di cosa dover fare cioè di come si vivono queste notti qua e quindi io in questo momento sono a livelli di fiducia minimi ma perché il campo mi sta portando a dire questo certo e quindi io martedì sera avrò per forza di cose la volontà di vedere un'idea di atteggiamento differente che poi non significa che se andrà male vorrò l'esonio immediato di Allegri perché io per come la sto ragionando adesso secondo me la deadline è il mondiale cioè se si arriverà al mondiale magari uscite la Gironi Champions o lontani dalla classica della classica in Serie A la Juve lì dovrà avere l'idea di ragionare su quelli che saranno i mesi successivi perché c'è una finestra di due mesi di interruzione per la prima volta poi io sono il primo a sperare di vincere 5-0 a Parigi è il primo a sperare di essere il primo del girone è il primo a sperare di essere il C-Main a Parigi che è in Serie A in questo momento temo che seguendo questa linea guida che vedo ricalcata sullo scorso anno si otterranno gli stessi risultati ecco semplicemente questa cosa qui cioè nel senso comprensibile condivisibile io ripeto io comunque dei passi in avanti li sto vedendo li stai vedendo perché ma non tanto beh si sono viste alcune cose a livello di gioco ma no ma il gioco io lo voglio davvero lasciare stare prima prima di arrivare lì cioè il fatto che la squadra per quanto sia se vogliamo anche umiliante diciamoci le cose parliamo chiare per quanto sia umiliante avere una fiorentina che ti schiaccia per così tanto tempo durante la partita non piace nessuno non piace neanche i giocatori ma no ma saprò quante volte c'è un po' del torrento in campo posso dire però posso dire di essere contento e soddisfatto nel vedere una squadra che nel momento in cui si rende conto che non ne ha e che rischia dipende l'imbarcata comunque si mette di giù col culo della gente che si batte i cinque che si abbraccia perché comunque nella fatica in tutto si evitano i golle e allora dico benissimo ragazzi io l'anno scorso mi ricordo come era questa squadra qua mi ricordo juventus empoli che tra l'altro eravamo entrambi allo stadio mi ricordo che c'erano undici giocatori che correvano sparsi per il campo e tutte le volte che l'empoli prendeva palla con tre passaggi era nella nostra area di rigore allora dico non è poca roba virgola sono contento di questa prestazione no assolutamente no ma qualcosa ho cominciato a vedere dal punto di vista caratteriale dal punto di vista dello spirito di sacrificio ma infatti la risposta banalmente io concordo con quello che mi dici nel provare a portare a casa secondo me è mancato un dettaglio da pochissimo che però non è un dettaglio fa tutta la differenza del mondo cioè se difendiamo posizionale perché capiamo che la frentina è di più possiamo non provare mai a fare una ripartenza perché io di ripartenza non l'ho mai vista e questo cioè se tu difendi basso e puoi difendere basso puoi difendere passivo però se poi non riparti mai allora la partita non la vinci mai ma Luma io sono d'accordo al 100% con te la juventus non ha mai preso in mano il controllo della partita e questo è un problema grosso ma il fatto che un giocatore anche come Locatelli tecnicamente molto bravo che sta cominciando a sentire la pressione questo è un lavoro che deve fare l'allenatore ma ma prima di arrivare sullo schema sul triangolo cioè prima bisogna sbloccare questi ragazzi dalla testa lì è troppo in là cioè lì non possiamo neanche pensare allo schema al triangolo prima di arrivare là occorre occorre che l'allenatore riesca a uscire da questo loop negativo di pressione di paure che come dici tu che hai detto benissimo è il coraggio cioè nei momenti in cui la juventus ritroverà il coraggio verranno fuori anche schemi triangoli inserimenti 50 tiri in porta partita i 50 tocchi di Vlaovic 50 tocchi di Di Maria ma se io passo il pallone c'è Ken che la spalla è girata e sembra un muro perché il pallone gli rimbalza e va indietro e qua c'è poco da fare cioè prima c'è da lavorare su sta roba qua il fatto che Locatelli sia passato ad essere un giocatore che pretendeva palla tutti i colpi e adesso invece comincia un po' a nascondersi è questo che mi preoccupa è questo che mi preoccupa molto prima di dire non vediamo i 50 tocchi di Vlaovic questa roba qua c'è ci sono delle priorità è allegri questa roba qua la vedi invece benissimo e sta cercando di dire questo cambio di mentalità e sta cercando di impartire questo cambio di mentalità tutto qua cioè secondo me si sta veramente semplicemente parlando di questo può essere una cosa più o meno grave una può vivere in modo la può vedere in modo più o meno grave ma cioè ripeto boh secondo me io ho guardato dopo abbiamo guardato tutti il derby no sembravano quasi due sport non erano due sport diversi io ragazzi vi dico solamente che le e con questa chiudo definitivamente la mia opinione sul video a meno che tu non abbia ulteriore considerazione domande tante non dico tutte ma tante storie belle del calcio nascono da momenti diciamo bui e difficili perché Stefano Pioli ha perso 0 5 scusate 5 0 fuori casa contro la contro l'Atalanta c'è stato un dirigente con i controcoglioni come Svomi Mirboban che si è messo contro tutta la dirigenza del Milan a dire io me ne esco e teniamo Pioli non è che si cambia ancora perché dentro questi problemi qua bisogna starci e lo stesso allenatore a distanza di un anno fa questo capolavoro dove anche un giocatore scarso che entra nel Milan oggi rende al cento per cento che è l'opposto della Juventus sì però perché secondo me succede questo perché poi Pioli si è messo ancora più in gioco di quanto non lo fosse magari abbandonando alcune cose che nella sua testa potevano funzionare lasciando stare alcuni pensieri che in quel momento non stavano più ragionando non stavano più andando e dando la priorità al campo cosa che io in questo momento non sto vedendo ma per concludere tutto una chicca stiamo parlando da 45 minuti praticamente non abbiamo mai tirato fuori il nome di Fabio Miretti che per me è stato un delitto non vederlo titolare al posto di McKennie l'altro giorno e a questo punto dato che la logica impone di pensare sarà titolare al parco dei principi ma io ti dico anche questa cosa qua sta giù Paredes cioè Paredes secondo me è stato un uomo turnover può essere può essere come giochiamo con Locatelli e Rabio Miretti Paredes è stato messo come uomo turnover per far fare la rotazione oggi sarebbe il centrocampo migliore ma quello visto con la Roma era quello lì ha funzionato perfetto allora andiamo avanti con quello è quello che mi fa arrabbiare cioè io ho visto una cosa che funzionava perché è come quando dai una caramella a un bimbo gli dà la caramella se la sta mangiando se la sta gustando e poi dice adesso te la tolgo cioè Juve Ruma per me è stato quello è vero Lu è vero Lu però la Fiorentina d'italiano martedì non gioca col Paris Saint Germain è vero è vero è vero e siamo al 3 di settembre e siamo già parlo anche quello spesso c'è chieri allo stadio ma voglio dire ma siamo già siamo già senza tanti giocatori e siamo al 3 di settembre un allenatore deve pensare in prospettiva non solo sulla sulla singola partita perché poi perché poi la gente si lamenta che Di Maria è stato sostituito al 45esimo sono gli stessi che si lamentano del fatto che Di Maria non è stato tolto a fine primo tempo del Sassuolo perché si sapeva che si sapeva che aveva avesso un problemino da qualche giorno c'è gli stessi che hanno criticato Allegri per non aver tirato giù tempestivamente Di Maria perché Di Maria aveva già accusato questo problema in settimana sono quelli che ieri si sono incazzati perché l'ha tolto al 45esimo ragazzi ma allora voglio dire ma se vogliamo fare polemica su tutto facciamo polemica su tutto l'altra volta si dice B è normale l'ha tolto col Sassuolo sul 3-0 cioè quando fai il 3-0 se sei avuto problemi lì probabilmente lo tiri giù ieri non stavi vincendo e a me è un giocatore che ha avuto una lesione ragazzi che tu sia 4-0 che sia 4-0 per te o 4-0 per gli altri se un giocatore ha avuto la lesione non ti può mica fare 90 minuti no appunto io ti sto parlando col Sassuolo che secondo me è sul 3-0 ma lui tra l'altro in conferenza stampa prima della Fiorentina l'aveva detto ha detto Di Maria gioca non so se ha 45 minuti o 60 quindi tu sapevi che se non usciva al 45 usciva al 60 a me è stupito vederlo titolare dico la verità a me è stupito vederlo titolare lui l'aveva detto Di Maria gioca devo capire 45-60 aveva detto 45-60 quando è andato i 60 ha detto ok gli fa fare i primi 45 minuti va bene dai chiudiamo questa maxi chiacchierata perché direi che ne abbiamo dite tante sono già le 9 intanto loro lo vedranno un'altra volta e ti faccio un'ultima domanda proprio al volo perché così spoiler il video di stasera questo volo pubblico la mattina la sera pubblico un altro ho fatto la prediction di quante partite faranno i calciatori e di quanti gol nella totalità poi ti vedrai il video c'è anche il file excel che se vuoi compilarlo per fare il tuo video sarà divertentissimo nella totalità poi puoi rettificare sul tuo video secondo te quanti gol facciamo e quanti gol prendiamo in serie a in totale 38 partite mi puoi dare perché sono meno preparato di te su questo mi puoi dare il riferimento dello scorso anno sui numeri della juve sì su gol su gol fatti gol subiti dovrebbe essere 30 no guarda te lo dico aspetta te lo dico serio 57 gol fatti 37 gol subiti quindi riferenza reti più 20 57 37 è difficile ti fatto la domanda più difficile alla fine io ti dico io ti dico 75 35 ok e allora ti invito dopo a vedere quelli che ho detto io per capire anche se dopo tutta questa analisi il singolo numerino che è l'output finale perché io arrivo sempre quello che fa la differenza poi se sarà uguale meno più quindi dai appuntamento anche i ragazzi questa sera trovate ovviamente il canale di davo un taggato qui e ti ringrazio per la bella chiacchierata perché abbiamo veramente parlato di una bella seduta terapeutica sciogliere qualche nodo sciogliere qualche nodo sì un abbraccio un abbraccio a te ciao ragazzi a tutti grazie ciao 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 ciao